benvenuti in questo nuovo video su wakecraft oggi ci siamo liberati di quel cazzone di metano e siamo insieme a martina che noia danny lion anche tutti hanno atteso il suo ritorno sul canale bellissimo cazzo ok ragazzi stiamo per partire 5 secondi all'inizio incredibile io cercherò di fare ancora più schifo del solito dobbiamo dire che io e martina siamo dei pro della morte a questo gioco io sono una pro della morte e tu no dai muori male pro della morte è una sega lo sta facendo solo per stare di strand cioè vaffanculo devi capirlo cosa mi hai fatto uccidere perché si mi ha fatto uccidere evviva l'italiano ma guardate che prima intanto o o o o o o o o martina la cretina eii ok questa era la prima bestia mai da censurare ma devo ricordare perché altrimenti finisce male la seconda ah già la seconda minchia iniziamo alla grande grazia ricordati che non c'è il 2 senza il 3 quindi porca eee io non l'investimio perchè sono una brava persona ed è così che martine iniziò a tiro giù i peggio cristico no martina ha bestimi solo Europeanा perde conto a fifa si ma non è vero io non mi stimio mai poi da fifa non perdo mai volete sapere quante chi l'ho fatto finora 2 1 e l'ho fatta io sono a 3 ehi ma io pensavo si sparasse col sinistro e poi ho ripensato ma no si sparco il destino ma perché tu hai la cosa d'oro scusa perché è una cazzo di merda sciaccia ma ci ha nerdato anni fa secondo me ci hai scioppato lei quando non fai video gioca come hai fatto questo è great craft 2 kill no vaffanculo danny ciao daid muori debola domani o tre kill no tre kill tre kill incredibile assoluta ma c'è quello ultra scioppato che mi fa il culo io comunque prima o poi sciopperò su questo server è schifo no di scioppare su leg da da te muori danny fai i pompini col culo pure tu uuuh prezzante ma quindi c'è la testa c'è una faccia da culo no quello sei tu no scusa ma vuole che fai i pompini col culo non c'è una faccia da culo mi hanno stillato la kill su martina oh che modelli oh oh che kill ho fatto sono a 4 lega 4 incredibile e vabbè ma così voglio arrivare a meno 5 voglio arrivare io sono a 15 o no al primo ciao date no muori di cancro danny ma no ma non ci sono io no ne ho fatte solo qua ma è già finita si si arriva a 25 allora danny danny ha tanti problemi tanti no e siamo consapevoli tanti ma proprio c'è presente quelle persone qui te vatti a fare una visita perché non stai bene danny è una di quelle no come hai fatto no invece sei morta puttanella ma è malato poi regalato dentro in che senso vaffanculo che noia incredibile sono primo ero primo was di mantina ti va un po di schwebs oddio c'è il lion ma come fa un chiaro caso secondo assurdo ma cosa ma gli hai passato attraverso il mio cosino oddio è un cosino il tuo cosino lo dice sempre anche il bello è che i miei video si riducono sempre a parlare dalla stessa persona che è il beep immagino sì ovviamente sì spero di ricordarlo perché altrimenti c'è un problema grave quindi no nooo sono secondo riega incredibile ah muori male nooo wipe cycle nooooo nooo ho vinto wipe cycle eeeh incredibile ho fatto una kill a 1 a fk oddio c'è danina io che mi amo e lui non lo dico Cos? Cosa? Mi volevo dire una cosa, però poteva essere frantiesa, quindi non la dirò. Oh sì, frantilliamo di tutto! Uuuuh! Oh, i secoli, devi stare attento! Mamma mia, il scivamento, che mi fa prendere questo? Oh, ma questo non è morto! Ma perché passa attraverso? Da dove? Non è giusto! Non trovo più nessuno! Non trovo più nessuno! Non trovo più nessuno! Ma sono morti? Oh, regà, però sono terzo, dai! Ma ora che cosa? Oh, ho fatto terzo! Ma come? Ho fatto terzo, ho fatto terzo, ho fatto terzo! Ma dai! Ma stai, non so se stai, non so se stai, non so se stai! Ma stai, non so se stai! Non so se stai! Ok, Dani inventa parole, e... Io invento tutto, ciao! Io sono un'obbo! Ciao, Gabbo! Un'obbo! E faccio il culo a tutti! Ah! Ma te lo sai chi mi sembri? Vaffanculo! Oh, ti ho chiso white psycho! Gli sembri vaffanculo? Sì! No! Vaffanculo è strodo! Ciao, Dade! Ciao, Dani! Come stai, tutto bene? Ciao! Tua mamma! Ahahah! Ahahah! Ma come? Ma perché la mia cazzo dieta? Oh, Dani, vai! Oh! Ma fanculo! Ho saltato come una piccola corda! Ah! Ah! Io ho paura di Dani, in certe occasioni! Cioè... Porta Dani più spesso sul canale! Raga, ma a me Dani fa paura! Ahahah! Ahahah! Io in certe volte guardo i video di Dani e ho paura! Ahahah! 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 Non ci faccio più! I video... I video... Cosa? Cosa? Faccio video di merda! E ho mal di panceri e bianco! Dai! Basta! Non dire queste parolacce che ti si abbassa il cpm! Esatto! Mettiamole tutte! Basta! Oddio! Vuori male che noia! Io da te premiamo qualsiasi cosa nel chachacha! Esatto! No! Oddio! Questo c'ha la skin di Ironblades... Frocio! Come ti ho ucciso Dani Lion? Ma io ti ho ucciso eh! No! Io sono morta bene! Come no? Madonna mia! Ma io volevo ucciderti! Ma tua mamma quella gran... CHE COS'E? Che cos'è? Ma che cosa? Mori male principe azzurro! Ma io direi che proprio per un secondo in questo momento devo dire... SBABIDI! Boobidi! BAM! E ne ha ucciso uno o no? Mamma mia che kill di white psycho su Dani! Guardate, io volevo abbracciarti Io volevo infilarti il pisello nelle... Ah? Nooo Nooo Voglio tenere la mia virginità anale fino ai vent'anni Ma se l'hai persa due anni fa Cazzo, mi hai sgamato Schifo Zitta Martina, che tu l'hai persa... ... piccola, dai Da piccola Io perché sto giocando a questa cosa con voi? Non voglio più fare video con voi Il mio pene è attaccato Io sono ancora una persona pura Sei ancora una persona pura? Sì Dania... Ciao Dania Io sono ancora in tempo per andare in palatino, differenza vostra Mia madre l'ha sviluppato mio fratello perché io urlavo Ah, ok, perfetto No, ho perso di nuovo, mi stai spessando Sono arrivato di nuovo al podio, raga, sono felicissimo Ma cos'è sta bobbia? Salta 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 Poi ragazzi, fatemi un mito Se qualcuno vi colpisce alle palle e vi dice di saltare Non saltate, raga, fa più male Davvero? Davvero? Io l'ho detto a qualsiasi persona perché sapevo che era così In realtà non lo è mai stato, fa più male Infami 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 C'è sto cazzo di gioco ti fa spawnare appena resuscitato dove ci sono 6.000 persone quindi devi morire per forza Ovvio Ovvio Ma come è possibile? Perchè questi hanno l'armatura e io no? Perchè a me l'anca? Ho fatto una cazzo di doppia No, è il server Oh, come ti ho ucciso Danny Lion, sei tipo follato nel punto in cui ho sparato Si chiama botta di culo Marti Vuoi il camera? Vero? Eh sì Minchia mi sono cagato addosso ragazzi Si sentiva una puzza infatti Oh! Ma dai! È la terza volta! Ma cosa? Link di me, da tua mamma mignotta Ma i pinguini saltano in culo I pinguini hanno... Ciao Martina Come stai? Vaffanculo stronzo Magari dopo dai Oh, Martina! Com'è? Te piace lo chefs? Tra io e te? No Guarda! Sto facendo un bando di kill! Intanto sei quarto Cioè alla fine Non hai che sei privo Ecco Questo è quello che ti meriti Quanto cazzo lagga questo? Oh! Ma tua mamma ha quella gran satinata in culo Oddio Non so cosa vuol dire ma Mi piace Ma fa culo Che noia Ti odio Io e te è meglio che io sia Ti odio XD Uno uno C'ho la lera o la XD cheat XD Cheat Nien che Martina non hai capito incredibile No infatti nemmeno io ho capito Ah ma solo... Come non hai capito? Nooo Cioè mi dispiace averti deluso ma... Ti ricorda niente? Ah Devo censurare pure questo Perfetto ottimo Che tם Oh Jack Ciao Martino Chi è il bro della morte? Io Non tu perchè dovessi essere prima Sai come è Prima e Martina Io prima Non so Martina è prima Martina è prima Adesso hai comandel lecca lecca no e martina girati muori danni dietro di te ero io e sì certo siamo dici dopo come se fossi una sorella ma sei una citer martina che noia scusa no ragazzi non fatemi arrivare di nuovo seconda per favore piuttosto arrivo primo io nella quarta partita guardando verso l'altro ok ragazzi per questo video è tutto per questo video è tutto vi invito a lasciare un mi piace soprattutto iscrivetevi al canale di martina e che sono io davvero sei daniele commentate questo video dicendomi hashtag spabidi bubidi bah in onore del pro della morte condividete questo video su facebook su twitter su google plus e con il vostro amico del cuore e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ci siamo i possessati del canale di dade va del retro satana no no no